La nuova Bishop Plus, con suo elegante disegno grigio e bianco, dà a creativi l'opportunità immediata di utilizzare la macchina con quasi tutti i prodotti SISIX per tagliare e goffrare. Con una larghezza di formato A4, la macchina può essere usata con fustelle di formato A4, ideale per tagliare forme di formato più grande oltre forme 3D. Con uno sviluppo continuo di prodotti, inclusi disegni adatti per la Plus, ci sono delle possibilità illimitate per realizzare progetti per la casa, di carta, patchwork, abbellimenti per indumenti e tant'altro. Adesso vediamo la macchina Big Shot Plus in azione utilizzando le Finits. Questa volta vado a usare una fustella Finits di formato A4 per creare una carina scatola. Ricordatevi che possiamo verificare il panino giusto da utilizzare sulla piattaforma o sugli adattatori. Per adesso ci vuole solo la piattaforma, la datatore A, un tappetino da taglio, il cartoncino, la fustella con la lama rivolta in basso e il secondo tappetino da taglio. Adesso passo il sandwich attraverso la macchina girando la manovella. Ecco, ci risulta una bellissima scatola. Guardate adesso questa casa con linee di piegature. Questa scatola è adesso perfetta per creare bomboniere e scatole per regali. Ora diamo un'occhiata a come goffrare con la macchina. Prendiamo adesso una cartella di goffrature di formato A4 per imbossare per esempio la scatola che abbiamo tagliato prima. Seguendo le istruzioni sull'adattatore, per imbossare abbiamo bisogno della piattaforma, l'adattatore B, perciò metto da parte adesso l'adattatore A perché non avevo bisogno per il momento. Prendo un tappetino da taglio, la forma della scatola pretaliata che metto nel mezzo della cartella, così. Adesso chiudo la cartella, la metto sul panino e per finire metto il secondo tappetino da taglio. Inseriamo adesso il tutto nella Big Shot e lo passiamo attraverso la macchina girando la manovella. Adesso, come vedrete, otteniamo una stupenda scatola con rilievo. Ora guardiamo come la macchina Plus funziona con la Bigs. Le fuseli Bigs hanno una lamina di acciaio e proprio per quello possono tagliare vari strati di tessuto cartoncino o uno stato alla volta. La tecnologia Bigs taglia con facilità e precisione feltro, pelle, metallo, cartoncino, tessuto, balsa, plastico e tant'altro. Adesso prepariamo il panino con la fustella Bigs. Non c'è bisogno di una piattaforma. Ci servono solo le due placche da taglio e la fustella Bigs. Dunque, mettiamo la nostra pasta da taglio, la fusta e la Bigs, la lama rivolta verso l'altro, un pezzo di feltro sulla nostra forma che abbiamo scelto, il secondo piano da taglio. Inseriamo il panino nella Bigs e lo passiamo attraverso la macchina girando la manovella. Come lo vedete abbiamo adesso delle le forme graziose e perfette.